Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vi mostro questa splendida maglia speciale della Lazio, una maglia anniversario in edizione FUN! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Stupenda! Vi ho sempre detto che è un debole per le maglie scure con la rifinitura in oro, secondo me è spettacolare. Il costo lo vedete qui sopra? Molto interessante anche quello, ma decidete voi cosa fare. Se volete ordinare la maglia o saperne di più, trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere questa e altre bellissime sorprese che vi attendo. Ora vi lascio le misure. Prima però, se volete vedere nuove recensioni come questa, come le altre che abbiamo fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale! Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN! Grazie a tutti!